fammi trovare na ciao aspetta ma so chi sei io t'ho visto su tiktok e chi sono? non ci credo ma tu sei aspetta salpe sono il famosissimo peppe fetish ma sei peppe fetish? per chi non lo conoscesse peppe fetish è il feticista più famoso d'italia feticista significa che è un amante dei piedi ovviamente non è lui ma sta fingendo di essere il vero peppe scusami se ti dico una cosa ti sei iscritto a l canale? maremma bucaio aspetta parla 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 voglio piedi callosi no non ci credo ho trovato peppe peppe sono il tuo ammiratore peppe scusa cosa fai ma tu che afforda di peppe? e beh non dovresti rimanere in giro a trovare e cercare i piedi? quello è il sabato e la domenica ma scusami ma quanti piedi hai trovato peppe? non li conto peppe senti una cosa ma per farmi leccare i miei piedi quanto quanto ti devo? solo quelle di femmine no ma i miei sono sono belli eh no no mi dispiace oddio però oddio sono emozionato fammi senti una cosa il piede più bello che che hai leccato? eh era consumato dal tacco dal tacco? salve sono il famosissimo peppe fetish lecco e odoro i piedi alle ragazze mi piacciono le piante dei piedi larghe sporche annerite arricciate rugose puzzolenti coi duruni i talloni screpolati lo smalto consumato le calze velate e scassate e tenuti dentro le scarpe dei coltì dopo che ne ho ballato tutta la serata pago 30 euro se mi fanno leccare 20 euro se invece me li fanno soltanto dorare in più oggi c'è una novità se una ragazza lecca anche lei i piedi a me pago 50 euro annuncio rivolto solo alle ragazze quindi astenersi uomini oddio non ci credo peppe oddio peppe non ci voglio credere allora peppe devo farti una richiesta posso? vai vai ok no c'è mia madre che vorrebbe tanto che tu leccassi i piedi non posso scusa ma come non puoi? è una ragazza c'è una femmina non è che dici sai le più giovani giovani e però lei è tornata da un ballo e quindi li vorrebbe eh dovrai vederli vederli ok ti posso mandare la foto su instagram va bene ok 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 salve perché peppe madonna è lui è lui è lui è lui peppe con la forza dei piedi peppe aspetta peppe per farti per farti vai peppe mi piacciono le piante dei piedi larghe sporche anerite arricciate rugose puzzolenti coglioni italoni stipolati cocinato consomato le calze scassate nooo dopo che ne ho ballato tutta la sera pago 30 euro se mi fanno leccare 20 euro se invece me li fanno soltanto dorare vi ringrazio aver visto questo video e lasciate un bel mi piace tutte e tutte le cose iscrivetevi al canale codici e guardate dei tips on ti e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti